25. Faciliste scensos. Ben presto venne la De Gringolade. Conobbi gli espedienti, gli imbrogli, i raggiri, le vie che salgono al monte di pietà e le altre che avallano al disonore. Potevo essere ancora una signora elegante. Potevo essere ancora la contessa Tarnowska Ia. Non ero più quella semplice, usuale, alta e inviolabile cosa. Una signora per bene. Intorno a me alleggiava l'aura speciale che circonda come di un'invisibile nimbola avventuriera, impercettibile emanazione che allontana istintivamente le persone rispettabili e attira nella sua orbita gli spostati, gli ambigui e gli abbietti. Io avevo accettato i denari altrui. Dalla semplice mancanza di dignità alla mancanza di retitudine è così breve il passo. Tra l'indiscrezione e la trasgressione è così indeterminato il confine. Un giorno ci si sveglia a delinquenti. Allora ci si ferma, sbigottiti, si volgono gli occhi indietro e si vede l'abisso, la profondità impassabile che ormai ci separa dalla lontana bianca vetta dell'innocenza. Come mai abbiamo potuto fare quella terribile strada che non ha più ritorno? Quali demoni ci hanno bendati, gli occhi ci hanno posto sotto i piedi, ponti e passerelle perché quasi senza accorgercene abbiamo traversato gole, burroni e vortici che non mai, non mai in questa vita potremo riattraversare. Ah, è tragico in vero questo senso dell'irrevocabilità, ma in quest'epoca non lo sentivo. Vedevo aprirsi inanzi a me una nuova via che mi riconduceva verso la regolarità, verso quella vita placida e convenzionale così sovente disprezzata da chi la vive, tanto rimpianta e ambita da chi la lasciò. Prilukov mi teneva ancora legata a lui col triplice vincolo della gratitudine, dell'affetto e della complicità, ma il conte Kamarovski mi traeva verso un avvenire più sicuro. Egli era ricco, buono e mi amava. Il mio matrimonio con Vasili ormai da tanto tempo un legame nullo e vuoto si scioglieva con l'imminente divorzio già decretato dal santo sinodo. Kamarovski mi implorava di sposarlo. La tristezza sua e del suo piccolo grania mi commuoveva profondamente e intravedevo per me, a fianco di questo onesto gentiluomo, la riascesa e la rispettabilità, la ripresa del mio posto al sole, che in un impeto di insania avevo così stoltamente abbandonato. Vedevo con Prilukov inevitabile lo sfaccello e la rovina. Egli per alcuni giorni si era allontanato da mosca, ma tornerebbe, riprenderebbe possesso della mia debole anima, del mio corpo estenuato, e insieme con lui sarebbe stata la caduta ultima, suprema nel disonore. Allora, con le due testine bionde di tioca e grani astrette al mio petto, giurai a Dio, con sincere lacrime di pentimento, che sarei per entrambi una madre tenera e fedele, degna dell'alto incarico, che per divina grazia veniva riconcesso a me. Kamarovski ai miei piedi si inghiozzava di gratitudine. Tu mi rendi la vita, diceva, alzando verso di me i buoni occhi immersi nelle lacrime. Io non sono degno di tanta felicità. Taci, taci, e chinavo il volto che l'onta della mia vita recente copriva di rossore. Sono io, sono io indegna. Ma Kamarovski mi ruppe la parola. Io so, Maria, che hai sofferto, che hai errato. Il passato si seppellisca al passato. Io non chiedo a te che la bianca pagina dell'avvenire. Tu sei generoso, sei buono. E le lacrime mi bruciavano gli occhi. Ma lascia, lascia che io ti dica. Mura, disse egli, chiamandomi col tenero nomignolo di fanciulla. Non ergere barriere tra di noi. Ciò che io ignoro non esiste per me. L'ignoto è un'ombra. Io delle ombre non ho paura. Ma se tu dai a quell'ombra una forma viva e un nome, esso si ergerà fra te e me, né potrò chiuderti tra le mie braccia. Se prima non l'avrò distrutto, taci tu, dunque, e scorda. Ah, non vi siano più drammi, non più tragedie intorno a me. Portami lontano, chiudimi nelle tue braccia. Tacerò e scorderò. La nostra partenza da Mosca fu una fuga. Io lasciai per Priluco fu una lettera in cui lo supplicavo di perdonarmi, di scordarmi, di lasciarmi riprendere la via della riabilitazione e della salvezza. Gli dicevo la mia gratitudine, il mio rimpianto eterni. E lo supplicavo in nome di quanto ancora a lui restasse di caro e di sacro al mondo. Di ritornare alla sua famiglia, alla sua carriera, alla via alta e retta dell'onestà, da cui io, misera, sciagurata, l'avevo, senza volerlo, distolto. Kamarovski ci condusse in riviera, dalle nordiche nevi agli aranceti in fiore di Nizia e di Hier. Avevo ancora nelle orecchie il tintinio delle slitte di mosca scivolanti per le vie azzurrastre di freddo, quando il pigro e soleggiato silenzio meridionale avviluppò languido e suave i miei sensi. I due bimbi, ebri di caldo e di azzurro, si arrestavano stupiti, con le mani giunte e la bocca aperta, davanti ai mostruosi fogliami dei cacti e degli aloes, credendosi trasportati per qualche incanto in una leggenda di fate. Le vele, a sghembo sul trasplendente indaco del mare, parevano farfalle posate su un immenso fiore di lapislazzuli. E per tre brevi giorni potei credere che il fatto non mi avrebbe raggiunta, che le mie colpe non mi avrebbero ritrovata. Le mie colpe, come nella vecchia fiaba inglese, le fanciullette che distratte si lasciano condurre a perdersi nei boschi. Io credevo che se non uscirebbero mai più dall'ombra e che non mi ritroverebbero mai più, muovevo sorridendo incontro all'avvenire, fatta calma dall'affetto di un onestuomo, fatta buona dalla stretta delle manine tiepide dei due fanciulli adorati, e dicevo nel mio cuore, il fatto è pietoso ed è clemente il Dio, egli ha sospeso il giudizio su di me. Mi concede un'altra prova, non mancherò, mio Dio, non mancherò. Ed ecco, a una voltata, sorgermi innanzi le vendicatrici dimenticate. Le mie colpe con visi di furia mi avevano ritrovata. Sulla terrazza del Bellevue, ayer, finivamo di pranzare, Paolo, Kamarovski ed io. I bimbi ci avevano abbracciati ed erano saliti, cinguettando e ridendo con Elisa alle loro camere. Kamarovski aveva acceso anche per me una sigaretta e si chinava verso di me, porgendomela con una parola di tenerezza. Quando scorsi dietro alle sue spalle, alla tavola vicina, un viso ghignante, terribile. Il cuore mi sobbalzò, era lo scorpione. Perché fu quel nome che mi tornò alla mente? Perché si rinnovò in me quel primiero istinto di paura e di ripulsione a quell'uomo? Quell'uomo che mi fissava soghignando non era l'amico, l'amante, il cavaliere dell'eroica saga germanica, no? Era la piovra di Wells, spaventevole, truculente, era lo scorpione che già una volta mi aveva riempita di terrore. Ma quando era venuto? Da quanto tempo sedeva a quel tavolo e osservava la mia Letizia Garula, la mia Rinata, timida felicità? 26. Io lo fissai con occhio timoroso. Vogli salutarlo, ma egli non rispose al mio timido cenno. Soghignava con la bocca storta e le braccia incrociate sulla tavola. Si burlava di Kamarovski e di me, e il mio terrore lo divertiva. Vogli ritirarmi, ma Kamarovski mi trattenne, vedendo i miei occhi spauriti, disse, di che cosa ti preoccupi, cara? E si voltò a guardare chi c'era dietro di lui. Pensai, ora accadrà uno scandalo. Ma egli non riconobbe Prilukov. Lo aveva veduto una sola volta nel mio salotto, quella sera in cui mi aveva dato i diecimila rubli. Ora, Donato aveva il cappello in testa e con quella smorfia sinistra quasi non lo riconoscevo neppure io. Appena ci alzamo da tavola, Prilukov se ne andò rapidamente ed entrò nell'albergo prima di noi. Io tremavo a fianco di Kamarovski, mentre egli placido e affettuoso, col braccio nel mio, mi conduceva verso l'hotel. Egli certo avrebbe voluto entrare con me nel mio salotto. E se vi fosse Prilukov? Ma Elisa Perrie mi salvò. La vi di venirci incontro rapidamente per il lungo corridoio. Perdoni, signora Contessa, c'è una persona, una signora, Elisa parlava con le labbra pallide che tremavano, una signora che la aspetta nel suo salotto e che non vorrebbe vedere che lei sola. Chi è? chiese il conte. Credo sia quella parente della signora Contessa, Elisa arrossiva e impallidiva alternativamente, quella parente povera di Mosca. Ah, già, dissi io quasi afona e rivolta al Kamarovski. Ti prego, aspettami nella sala di lettura. Sta bene, sbrigati presto. E il conte Kamarovski girò sui tacchi e se ne andò. Io passai rapidamente davanti a Elisa che abbassava il capo vergognosa per sé e per me della menzogna ed entrai nel mio salotto tiepido e fragrante. Sul divano, fumando una sigaretta, sedeva Prilukov. Non si mosse quando entrai. Continuo a fumare guardandomi, sorridendo con la bocca storta e ne ebbi grande paura. Donato, balbettai, perché non mi avete avvisata del vostro arrivo? Egli non rispose, ma arrise forte e la mia paura crebbe. Avete ricevuto la mia lettera? Siete in collera con me? In collera? Urlò lui, balzando in piedi come un forsennato. In collera? No, non sono in collera. Io indietreggiavo spaurita e lui mi seguiva, cacciando la faccia contratta vicino alla mia. Ah, tu rovini un uomo, tu mandi a perdizione una persona e poi gli domandi se è in collera. Tu prendi tra le tue piccole unghie un galantuomo e lo rigiri, lo impasti, lo trasformi e ne fai un vigliacco, un furfante, un ladro e poi lo getti come un cencio sudicio e gli domandi se è in collera? Ah ah ah! E mi rise sulla faccia. Era stravolto e livido, con una vena gonfia come una corda sulla fronte. Ma perché dici questo? E mi misi a piangere. Perché dico questo? Urlò Prilukov. Perché? Perché io avevo una moglie e l'ho tradita per te. Avevo dei figli e li ho abbandonati per te. Avevo una carriera e l'ho perduta per te. Era una persona onesta e sono diventato un ladro per te. Ma no, ma no, balbettai e sterrefatta. Ah no? Ah no? gridava lui e con le mani tremanti traeva dal portafogli dei pacchi di biglietti da mille. Ah no? Questo ho rubato e questo e questo e questo perché tu, vampiro che sei, avevi bisogno di denari. Ma io non ti ho mai detto di rubare. Ah no? Non me l'hai detto? E dove dovevo prenderli? Dove? Dove? E così dicendo mi gettava in volto i biglietti che cadevano tutti intorno a me. Non me l'hai detto ma tu volevi denari, denari, denari e adesso li hai. Tienteli, tienteli, tienteli. E mi percosse in viso con un'ultima manata di rubli. Io si inghiozzavo disperatamente. Ma no, no, donato, abbi pietà. Ho avuto pietà, urlò. Ho avuto sempre e soltanto pietà. Tu eri malata, spaventata, sola e ho lasciato la casa mia per rimanere con te. Tu piangevi e io ti ho consolata. Tu eri senza denaro e io ne ho rubato. Come vuoi che si abbia più pietà? Ora piangeva anche lui. E adesso? Perché sono un vile e un criminale per te tu mi lasci? Tu te ne vai, tu sposi un galantuomo ed io posso andare a finire in galera, è vero? No, no, non parlare così. Ah, ma se vado in galera ci vai anche tu, te lo giuro. Te lo giuro, io sono un ladro e posso anche diventare un assassino. Ma se vado in galera anche tu ci andrai. Cadde affranto sul divano e si nascose il viso tra le mani. E io vidi tutta la strada rovinosa che questo uomo aveva percorso per me e caddi in ginocchio ai suoi piedi. Donato, donato, non disperarti e perdonami. Rendi, rendi quei denari a chi li hai presi e ritorna a casa tua e ridiventa onesto. Egli levò su di me il volto affranto in cui gli occhi quasi gialli fosforeggiavano iniettati di rosso. Non posso, non posso, non si torna più indietro. A quest'ora tutta mosca sa che sono fuggito e ho portato via i denari e affidatemi. Ma se ritorni subito e li rendi, sono rovinato lo stesso, sono perduto lo stesso. Chi, chi avrà più fiducia in me? Chi si affiderà più alla mia onestà? Io sono già un delinquente, tutti lo sanno. Il marchio dell'infamia non si cancella con una vampata di rimorso postumo. Sono un uomo finito, sono un ladro e basta. Un ladro? Io non avevo mai veduto un ladro. Me li immaginavo tutti come degli apache, scamiciati, con un fazzoletto nero al collo e un berretto in testa. E questo signore in frac, questo che mi era stato presentato come il celebre e l'integerrimo avvocato, questo che era stato mio amante, l'amico di Tioka, il Loingrin di Elisa, era un ladro. Non lo potevo credere. A questo punto si udì la voce di uno degli chasseurs dell'hotel. Lo chasseur che se ne andava per il corridoio gridava, 47, numero 47. Prilukov si scosse. 47? È il numero della mia camera. Chi può domandare di me? Chi può sapere dove sono? E nei suoi occhi vi era già l'espressione del fugitivo. Vi era l'inquieto lampeggiare di paura e di sfida della belva inseguita. Io guardai tutti quei biglietti di banca sparsi sul tappeto e mi sentì venire freddo. Nascondi, nascondigli, sussurrai torcendo le mani. Nascondili tu, disse egli senza muoversi. Udì dei passi nel corridoio, si avvicinarono, si fermarono. Qualcuno bussò alla porta. La paura mi soffocò in gole, mi diede uno spasimo nei ginocchi. Mi chinai in fretta a raccogliere tutti quei denari, mentre Prilukov, sempre immobile, mi guardava. In un gran mucchio di carta sgualcita glieli porsi, ma egli non si mosse. Ecco, bussavano ancora. Chi poteva essere? Kamarovski? La polizia? Aprii un cassetto e vi gettai il fascio di biglietti, poi dissi «Avanti!» 27. Non era che il paggetto, piccolo, impertinente, vestito di rosso. Il signor conte dice che l'aspetta. «Ditegli che scendo subito!» «No!» contraddisse Prilukov. «Fagli dire che non scenderai!» «Ma allora verrà qui! E tu gli dirai che non puoi riceverlo!» E così avvenne. E non quella sera soltanto. Prilukov si installò per delle mezze giornate, per delle serate intere, nei miei appartamenti, ricusando di muoversi. Molte volte non mi lasciava uscire distanza. Allora veniva il conte Kamarovski e batteva alla porta. «Non si può entrare!» esclamava Elisa per rie pallide e tremante, appoggiandosi all'uscio chiuso a chiave. «Ma perché? Perché? Cos'è accaduto?» «Nulla! La signora non si sente bene!» «Ma ragione di più perché io la veda!» protestava il conte. «Voglio vederla! Non si può! Non si può!» E la paura rendeva quasi afona la povera Elisa. Allora il conte mi parlava, attraverso la porta chiusa, pregava, ragionava, ed ogni volta che mi diceva una parola tenera, Prilukov che mi teneva ferma, per un braccio mi dava un pizzicotto. «Mura! Mura, parlami almeno! Lasciami entrare un istante! Lo sai che ti adoro!» «Pizzicotto! Ti farò guarire io con tante carezze!» «Pizzicotto! Non trattarmi come un estraneo!» Ed io con voce fioca rispondevo «Perdonatemi! Non è nulla! Più tardi starò meglio e scenderò!» «Ma perché non mi lasci entrare? Non vuoi vedermi? Non mi ami più!» «Ma sì che ti...» «Pizzicotto! Vi vedrò più tardi! Andate via, vi imploro!» Ed egli se ne andava, perplesso e sconcertato. Soprattutto era difficile, quasi impossibile, celare la presenza di Prilukov a Tioka e a Grania. Tioka lo scorse un giorno sul terrazzo e con un grido di gioia volle corre gli incontro, ma io lo trattenni. No, caro, non è Prilukov. È uno che gli assomiglia, non è lui. E poiché Prilukov pareva non badasse a noi, il Piccino mi credette. Io vissi di una vita assurda e insopportabile sotto l'incubo di questa abominevole situazione. Le mie giornate erano grottesche e spaventose. Quando pranzavo con Kamarovski, Prilukov era sempre alla tavola vicina. Si può dire che era lui che regolava la nostra conversazione. Se io dicevo qualche cosa che a lui non garbava, faceva dei gesti folli di cui tutti si accorgevano. Tutti eccetto Kamarovski. Mi mostrava i pugni, mi fulminava con lo sguardo e se io fingevo di non badagli, rovesciava le saliere e faceva cadere le posate per attirare la mia attenzione. Guardava l'inconscia testa un po' calva di Kamarovski e dondolava il capo ghignando con la bocca storta. Gli ospiti del grande albergo lo credevano un pazzo e certo egli si comportava come tale. Molte volte anche io mi sono detta ma questo è un pazzo. Quando nel mio salotto lo trovavo nascosto dietro le tende, ho acquattato in un angolo, ho sdraiato sul mio letto fumando sigarette. Ma che cosa vuoi da me? Cosa devo fare? S'inchiozzavo sentendomi mancare la ragione. Vuoi che dica tutto Kamarovski? Vuoi che abbandoni l'idea di questo matrimonio e che torni a Mosca con te? A Mosca non possiamo tornare. Ma altrove, se ti vuoi, se tu vuoi verrò altrove. Adesso stiamo qui, rispondeva lui che pareva divertirsi della mia angoscia e poi al seguito penso io. Talvolta mi vietava di uscire con Kamarovski, talvolta ci seguiva e mi tormentava dietro le ignare spalle del mio fidanzato il quale si addolorava tutti i giorni di più del mio inspiegabile e assurdo contegno. Un giorno, che per pochi momenti mi trovai sola sul terrazzo con lui, gli dissi affrettatamente, Paolo portami via, partiamo in fretta senza dir nulla a nessuno. Kamarovski rise. Che strana idea, perché? Non stai bene qui? No Paolo, no, c'è qualcuno che mi spia. Che ti spia? Ah, è perciò che sei così strana. Sì, è perciò. Dimmi chi è, disse lui concitato. Non chiedere nulla, ti dirò, ti dirò poi. Oh, che testolina romantica, disse lui carezzandomi la guancia, ed io mi sentì quasi offesa dalla sua tranquillità. Mi spiacque che gli subito si rassegnasse a non sapere altro e a non domandare di più. Mi pareva che se egli veramente mi avesse amato avrebbe dovuto essere più inquieto, più sospettoso. Non comprendevo, ahimè, non compresi mai, la sua ingenue e nobile fiducia in me. Gli esaltati tra i quali avevo finora vissuto avevano fatto di me un'ipersensitiva. Per non soffrire avevo bisogno di veder gli altri soffrire. Per credere al loro amore avevo bisogno che essi dubitassero del mio. Per godere dovevo infliggere tormento. L'amore uguale tutti dì, l'amore calmo, profondo, tenero e sereno. Per me non era amore. Non lo conoscevo, non lo avevo veduto mai, né in quel giorno né mai ho creduto che Kamarowski veramente mi amasse. Fu combinato in quei pochi istanti che io sarei partita subito quella sera stessa con Tioca ed Elisa, lasciando tutti i nostri bauli ai quali avrebbe pensato lui dopo la nostra partenza. Egli ci avrebbe raggiunti col piccolo Grania a Vienna e quindi ci saremmo recati insieme a Orel, dove egli aveva degli affari che reclamavano la sua presenza. Dunque quella sera, mentre pranzavo col conte e Prilukov sedeva come sempre al tavolo vicino, venne Elisa e mi disse «Perdoni, signora contessa, il signorino Tioca è qui fuori che vuol darle la buonanotte». «Ma perché non lo conduci qui?» feci io ad alta voce, cercando di parlare con naturalezza. «Non vuole», disse Elisa abbassando il capo. L'idea del tradimento che si faceva a Loengrin l'addolorava quasi più del martirio che Loengrin infliggeva a noi. «Perdonatemi un istante», disse al conte e mi alzai. «Torno subito». Appena nel corridoio, Elisa mi gettò sulle spalle l'ampio mantello. L'automobile pulsava già davanti alla porta e Tioca vi stava dentro tra due valigie ai nostri cappelli e scialli. «Cosa facciamo? Scappiamo?» domandò lui tutto contento. «Sì», risposi abbracciandolo. E l'automobile correva già. «Perché? Perché scappiamo? Abbiamo rubato qualche cosa?» A quelle parole sentii un tuffo nel sangue. «Elisa, ansai, nel cassetto della scrivania c'erano dei denari». «Sì, signora, e che cosa ne hai fatto?» «Stia tranquilla, signora, li ho presi!» «Li hai presi? Sì, signora, sono qui!» Ed Elisa batte con mano soddisfatta su una borsa di cuaio nero. Io con un singulto mi coprì il viso. Avevamo rubato qualche cosa. 28. Subito dalla frontiera telegrafai a Prilukov. Avevo pensato di rimandare indietro Elisa con i denari, ma ella si rifiutò di lasciarmi. «Pensi, signora, se il signor avvocato mi ammazzasse, che cosa farebbe lei sola per il mondo col signorino?» «È vero», dissi io pensierosa, «ma soggiunsi perché dovrebbe ammazzarti? Ma...» Elisa sospirò. «È diventato molto strano». E dopo una breve pausa soggiunse «Siamo tutti diventati molto strani». Era vero, me ne accorgevo anch'io, eravamo diventati molto strani. Non si era più come l'altra gente, la gente che incontravamo in viaggio e negli alberghi, gente che si interessava al paesaggio, alle opere d'arte, ai monumenti, alle cattedrali. Noi non parlavamo mai di monumenti, non andavamo mai a vedere cattedrali, noi non ci interessavamo che alle nostre proprie anime dolorose. Eravamo come chi viaggia con un ammalato e non pensa che a lui e non guarda che lui e l'ammalato era l'anima nostra. Il meno strano di noi era il conte Kamarovski. Eppure anche lui non era come tutti gli uomini. Non era un'anima completamente forte e normale. Aveva tanto paura di soffrire che non voleva saper nulla. Aveva tanto paura di vedere cose spiacevoli che preferiva tenere chiusi gli occhi. Io avrei voluto, anche a rischio di perdere l'ultima speranza di salvezza, il matrimonio decoroso e riabilitatore, confessargli tutto, aprigli il mio cuore. E seppure egli mi avesse allora disprezzata, seppure non mi avesse più voluta per moglie, il sollievo immenso di affidare le mie angosce a un cuore pietoso mi spingeva irresistibilmente verso la rivelazione. Ma egli la schivava, sfuggiva alle spiegazioni dolorose, sviava le confidenze. Mura, mura, mi diceva coi buoni occhi imploranti, ho sofferto tanto che sono vile dinanzi al dolore. Questa è l'unica ora di gioia per me, non volermela togliere né ufuscare. Il passato è sepolto, non volerlo disseppellire, non voler guardare ciò che è morto. Era brevidiva. Io tacevo pensando che il mio passato era sepolto vivo. E se l'anima mia era ammalata, non meno ammalato e sofferente era il mio corpo. Dimagrivo ogni giorno più e non vi era un'ora in cui fosse completamente libero dal dolore. Il male sordo e profondo che fin dalla nascita di Tania si era nidato in me, sacuiva, si inaspriva, si inoltrava nel mio corpo magro e torturato. Talvolta erano dolori acuti e lancinanti che mi facevano dar dei gridi e mi coprivano tutta di sudor freddo, ma il più delle volte non era che un male cupo, continuo, un senso di stanchezza che mi toglieva le forze e la speranza. Oh, mie sorelle in eva, così fiere, così spietate, così feroci contro di me. Voi che sole potete comprendere il male di cui soffri, il fiammeggiante male della femminilità che cinge come d'una sciarpa di fuoco le reni e le stringe le attamaglia, le stritola. Voi che in tali ore avete un placido asilo in cui rifugiarvi, un fido petto su cui celare la fronte madida e intristita. Pensate con un po' di pietà a quegli strazzi trascinati da albergo in albergo, celati come un'onta agli sguardi cupidi di uomini quasi sconosciuti, di uomini che da voi non chiedono che sorriso e gaiezza, che vi conducono attorno per farsi vanto della vostra bellezza ed eleganza. Oh, lo strazio del busto stretto sul corpo martoriato e dolente! Oh, il peso dell'ornata pettinatura a sommo del capo pulsante di dolore, l'ironia del rossetto sulle guance smunte, sulle labbra pallide e la nausea dinanzi al cibo che si inghiotte ridendo e il rumore di voci e di musiche che vi stordiscono e lo sfavillio di luci che vi si infliggono come coltelli sotto le palpebre. Quante volte ritornando da un allegro convito o pianto e singhiozzato nella mia camera d'albergo, sontuosa e desolata, pensando ad una gioia a me negata, il privilegio sommo d'essere brutta, triste, malata e d'essere amata lo stesso. Oh, l'invidia che ho provato di certe donne non belle, non giovani, presso il cui capezzale, quando erano malate, vegliava, sfatto di tenerezze e di pietà il marito, fedele traverso gli anni, traverso i mutamenti, traverso la sfioritura. Non uno, non uno di coloro che giurarono d'amarmi mi avrebbero amata così, non Vasili, non Bosevski, non Stahl, non Kamarovski, Prilukov, forse. Ma Prilukov era un ladro, un fuggiasco, un delinquente, ed io pregavo Dio ogni giorno, tremando che me lo tenesse lontano. Difatti Donato non aveva risposto al mio telegramma, né ci aveva raggiunti a Vienna, non sapevamo che cosa fare dei suoi denari rubati. Non osavamo rimandargli lì, non osavamo portarli attorno, non osavamo lasciarli a casa, e Lisa si recava presso notte e giorno quella borsetta di cuoio nero che era diventata per noi un incubo, un'ossessione. Ricordavo con amaro umorismo la storia dei cacciatori inglesi che nelle Indie avevano preso nel laccio quel raro, quel sacro e prezioso fra gli animali, l'elefante bianco, e avendolo non sapevano che cosa farsene, se lo traevano dietro grave, lento, enorme, per terra e per mare, e nessuno lo voleva e non sapevano come sbarazzarsene. I denari rubati di Prilukov erano per noi un elefante bianco. A Vienna Kamarovsky ci raggiunse quasi subito, arrivò portando con sé tutti i nostri bagagli ed era allegro come uno scolare in vacanza. Qui non ci sono spie, e mi baciò rumorosamente sulla guancia. Niente spie, vero Mura? Ma io non amavo che egli prendesse così alla leggera i misteri della mia esistenza. Come mai egli non mi chiedeva altre spiegazioni? Non insisteva per sapere chi mi aveva seguita, ayer, e perché? Era amore questo? Che da sé si bendava gli occhi? Che sfuggiva alle spiegazioni e scansava gli schiarimenti? Certo non era l'eroico amore che io avevo sognato, non era il forte rifugio sospirato dalla mia debolezza, non era il porto agognato dalla frale anima mia già sbattuta da tante procelle. Neppure era egli l'innamorato melodrammatico, magnanimo, temerario di cui l'audacia mi avrebbe rapita e conquistata. Ricordavo Bozevsky e le sue veemenze divinamente estetiche. Accanto a quei fiammeggianti ricordi il blando affetto di Kamarovsky mi pareva quasi un affronto. Egli volle che si proseguisse quasi subito per Orel. A quell'epoca io non possedevo altri denari che quelli rubati di Prilukov, ma piuttosto che toccar quelli facevo a meno di tutto. I biglietti ce li procurò Kamarovsky e pensava a lui ai conti dell'albergo, ma io non ero in grado né di dare una mancia né di procurare per me o per Tioca la più piccola cosa che fosse necessaria. Decisi al fine di confidare francamente a Kamarovsky la nostra situazione finanziaria e così feci nel treno che ci conduceva verso Orel. Egli rise e parve anzi compiacersi della nostra completa dipendenza da lui. Mi riempì d'oro il portamonete e mi raccomandò di chiedergli sempre tutto ciò che desideravo. Arrivammo ad Orel in un folgente pomeriggio di marzo, Kamarovsky ci installò nel nostro appartamento all'hotel già tutto infiorato e adorno in attesa del nostro arrivo e ci lasciò per andare in cerca di un suo giovane amico, figlio del governatore che doveva incaricarsi di far preparare i nostri passaporti. Quando fui sola Elisa si affacciò alla porta del mio salotto. I bambini vorrebbero uscire un poco. Dicono di essere ingranchiti dal viaggio. Se la signora permette li condurrò nei giardini qui di faccia. Conducili pure, disse io. Tiocca e Grania vennero correndo ad abbracciarmi. Dietro a loro ricomparve Elisa. Permette la signora che lo lasci qui? chiese a bassa voce. Lo? Era la borsetta di cuoio nero, era l'elefante bianco. Sì, sì, lascialo pure, disse io. Ed ella lo portò in camera mia e lo mise sul mio tavolo da toilette.